Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo mio nuovo Winelpo Blog Un saluto da parte di Macuperio che come sempre vi da il ben ritrovati a questa mia nuova registrazione Saluto che va indirizzato in maniera particolare a tutti coloro che mi seguono e che sono iscritti al mio canale Oggi di cosa voglio parlare ragazzi? A chi di voi non è mai successo almeno una volta nella vita di andare a cancellare dal PC dei file che poi dopo risultano essere invece utili? Bene, oggi andremo a scoprire insieme un programma totalmente gratuito Molto ma molto semplice da utilizzare proprio per il recupero di questi file andati cancellati in maniera diciamo involontaria Il programma in questione si chiama Recuva Eccolo qua E' un programma che potete trovare su questo sito www.piriforma.com Comunque sia il link lo posterò in descrizione Cliccate qua su scarica da file Hippo File Hippo Così Aspetta che facciamo Zumba Eccolo qua Ok Dopodichè verrete diciamo trasferiti a quest'altra pagina Cliccate qua su scarica ultima versione E vi scaricate il vostro programma totalmente gratuito Lanciate il file Excel come si fa normalmente per l'installazione di un programma su Windows Cliccate sempre avanti E vi ritrovate a un certo punto in questa maschera Qui scegliete diciamo la categoria dei file che avete intenzione di selezionare Di recuperare scusate Poi date avanti E vi dovete sicuramente ritrovare qua Come vedete qua avete la possibilità di selezionare i file da recuperare Considerate che questi pallini verdi vanno a significare che i file possono essere recuperati al 100% Mentre invece se il pallino corrispondente al file è arancione Significa che il file può essere recuperato in parte Se il pallino poi dopo è completamente rosso Significa che il file è corrotto e non può essere recuperato Una volta spuntati i file che vi interessano Selezionate una cartella di destinazione E poi dopo Su recuperare Come vedete Un procedimento abbastanza semplice Anche per le persone meno esperte Diciamo Di informatica Bene Marco Perio anche per quest'oggi Vi saluta Vi rinnovo l'appuntamento al mio prossimo WinApple Vlog E niente Ciao ciao